Ciao a tutti ragazzi, sono Salvatore Magnifica e oggi vi mostrerò un glitch per avere skin gratis. Allora, come prima cosa dovreste premere l'X, acquistare e andare indietro, ripetutamente, fino a che non uscirà acquisto in attesa. Quando uscirà acquisto in attesa, sarà glitchato il negozio, e quindi vi uscirà una scuola dell'epic, e il team sta vedendo il vostro acquisto. Aspettate qualche oretta, dovrebbe arrivarvi la notifica, e dovrebbero darvi la vostra skin 500 più 100 V-Bucks. E niente ragazzi, fatemi sapere se è funzionato, perché io sto ancora aspettando la notifica dell'epic, e ciao ragazzi!